Poi bisogna trovare una soluzione condivisa, bisogna operare in questo momento in sinergia. Nicola Romano, presidente provinciale della Confo Commercio di Benevento, interviene all'indomani del provvedimento per cui i ristoratori e proprietari di bar sono finiti a processo per la vicenda di gazebo e di orsi installati secondo l'accusa, senza i pareri della soprintendenza nel centro storico e non solo di Benevento, strutture per due volte oggetto di sequestri poi annullati dal riesame. Una vicenda che inizia nel 2018 con il primo provvedimento e per la quale l'esponente dell'associazione di categoria rilancia la proposta già presentata in quell'occasione. Ovviamente noi comprendiamo e siamo consapevoli che la magistratura fa il suo corso, debba fare il suo corso. In questo momento però chiederemo subito e immediatamente alla prossima amministrazione di riprendere il discorso per quanto attiene e per quanto concerne una soluzione condivisa del problema. Noi all'epoca proponemmo di fare delle strutture e darle incomodato. In questo momento ovviamente come associazione siamo disponibili per tutti quanti gli operatori del settore. E dunque dal presidente della Confu Commercio l'appello ad avviare un percorso condiviso a supporto di un settore già fortemente penalizzato dalla pandemia. Quello dei bar in particolar modo è oggi a livello nazionale e anche a livello locale il settore che più ha sofferto con le chiusure e più sta soffrendo oggi.